E' una festa molto importante e relativamente nuova, quella istituita da San Giovanni Paolo II, consegnata alla Chiesa Universale, in cui si sottolinea la grande misericordia di Dio Padre dopo le rivelazioni a Santa Faustina Kovalska. Nell'unità di San Giovanni in Monte si è voluto sottolinearla con un momento di preghiera dedicato. Non solo è una dichiarazione importante di misericordia di Dio, ma è anche il riconoscimento di questa grande misericordia. Come unità pastorale l'abbiamo preparata insieme attraverso tutta quanta la Quaresima e questa festa ha il senso del rendimento di grazia, del bene che Dio vuole all'umanità e a ciascuno di noi e quindi alla sua immensa misericordia. Attraverso il canto e l'adorazione accoglieremo adorando Gesù a Eucaristia la parola dei capitoli 13, 14, 15, 16 e 17 del Vangelo di San Giovanni. Ecco che accoglieremo quanto il Signore ci ama e quali sono i consigli per rispondere a si grande amore. Proprio nel paese di Breonio da qualche anno è attivo un gruppo di preghiera nato spontaneamente da laici in seguito ad alcuni pellegrinaggi. È partito dal 2012 dopo diversi viaggi a Meggiugoria ho ricevuto questa chiamata interiore e quando sono tornato chiesto ai nostri preti si mi permettevano di iniziare un rosario a partire da ottobre e abbiamo iniziato il lunedì del 2012, il primo lunedì di ottobre e tuttora andiamo avanti ogni lunedì e da quando è venuto il nuovo paroco Don Michele nell'ultimo anno e mezzo abbiamo iniziato il rosario più adorazione. Lo facciamo qui in questa cappellina e poi d'estate lo facciamo in chiesa oppure anche lo facevamo nella chiesa di San Marziale, quella che c'è in centro paese, quella storica romana. È molto importante perché ci fa sentire uniti in questo cammino verso il Signore e vedo che tutti vengono molto volentieri, adesso si sono aggiunte anche persone dell'unità pastorale appunto da un paio d'anni, un anno e mezzo quello che è e ci tengono molto a venire e tutti i lunedì siamo qui insomma uniti. Un altro evento atteso nell'unità pastorale in questa Domenica della Divina Misericordia è stata la premiazione del primo concorso del Presepe Pasquale, un'esperienza nuova che ha suscitato interesse tra le famiglie e i bambini che hanno usato fantasia e manualità per mettere in scena gli eventi della Passione di Gesù. Nella nostra unità pastorale è di grande tradizione la grande rappresentazione del Venerdì Santo con la Via Crucis animata dai ragazzi delle elementari e delle medie. Quest'anno per motivi di Covid abbiamo cercato di, prendendo spunto da una tradizione esistente in tutto il mondo ma specialmente nel nord Europa e nel sud Italia, del Presepe Pasquale per rendere protagonisti e accompagnare i nostri giovani cristiani a meditare sulla Passione morte e risurrezione di Gesù attraverso anche il Presepe Pasquale che appena l'abbiamo annunciato alla nostra comunità subito ha attirato l'attenzione di altre associazioni nel Veronese che hanno chiesto il gemellaggio con noi, quella di Trevenzuolo per esempio. Domenica erano presenti in chiesa Sant'Anna i partecipanti e vincitori del primo concorso il Presepe di Pasqua per ritirare i premi e ricevere le congratulazioni degli organizzatori. Per fare questo presepe ho preso dei sassi e del muschio dal bosco, poi anche delle primule che sono vere, cioè sono nel vaso. Mio papà mi ha portato un cartone a casa, io l'ho dipinto e gli ho fatto il sole per fare il tramonto. All'inizio me l'ha proposto mia madre e dopo ho deciso di partecipare anche come prima opportunità perché non avevo mai anche partecipato a qualsiasi concorso. Il nostro Presepe rappresenta il sepolcro di Gesù e le tre croci. Abbiamo preso dell'edera, diversi fiori, alcuni sassi, abbiamo costruito delle croci e abbiamo aggiunto un po' di muschio e l'abbiamo messo su una fontana. Ho usato il DAS e dopo ho anche usato la seta per fargli vestiti e i capelli. C'è Gesù che è morto sulla croce e Maria e San Giovanni che pregano. Gesù è morto per i bambini, i vecchietti, i malati e quelli normali e gli uomini e le donne. Siamo in una radura grande, abbastanza grande, dove ci sono pastori, carri e tanta gente stanno guardando Gesù in croce. L'abbiamo creato con le nostre mani con la pasta di sale e poi l'abbiamo colorato con le tempere. Il concorso è nato anche grazie allo stare insieme in modo virtuale e alle idee condivise sul foglio di catechismo Domenica Pro. È un foglio che viene mandato in formato digitale alle famiglie. Questo perché in questo periodo di ristrettezze, di pandemia, di impossibilità di incontrarci in presenza per fare il catechismo delle elementari e delle medie, si doveva trovare uno strumento adeguato per raggiungere le famiglie e i ragazzini. E per fare questo abbiamo ideato questo foglio dove, oltre al Vangelo della Domenica e il commento al Vangelo con degli spunti di riflessione, ci sono soprattutto delle belle pagine, delle belle vignette, dei bei giochi, anche dei film o libri consigliati. Poi ci sono dei link che possono essere cliccati per raggiungere delle pagine su internet, possono essere dei commenti adatti ai bambini delle elementari, dei lavoretti, dei giochi da fare. Poi abbiamo anche pensato di fare per i vari periodi speciali delle edizioni speciali, speciale Natale, speciale Quaresima abbiamo fatto e poi anche adesso speciale Pasqua per evidenziare anche le festività, le solennità anche liturgiche. Ma è proprio lo strumento molto duttile, molto semplice anche da usare perché viene spedito a casa e quindi ciascuno quando ha tempo, aiutato dai genitori, un ragazzino, un bambino delle medie o delle elementari può cimentarsi in qualche attività e questo ci ha permesso anche di organizzare il concorso dei presepi di Natale e adesso il concorso dei presepi di Pasqua. Noi siamo contenti perché ci sono state sei adesioni, ci sono state anche quelle parocchiali e abbiamo visto dei presepi, anche sentiti come famiglie, una bella esperienza anche per noi che l'abbiamo lanciata.